Niente, qui abbiamo preso un bell'ottino delle carte molto vecchie. Mamma mia! Assalto le Genifragiello, le Origini, Kamikawa, Saga di Urza, c'è un po' di tutto insomma. Tatti delle Girde, Fortezza, Poller Empire, addirittura Nemesis, vabbè qui ci sarà parecchio da scartare. Invasione, congezione, Apocalisse, Tisseo. Non male che ci stanno le righette di sedermonte d'assalto. Assalto Davide. Madonna! Maschere di Mercadia. Propozione, Invasione, Credita di Urza, Testino di Urza, vabbè. Dai, c'è parecchia robetta. Poi ci divertiamo, ci aggiorniamo.